Don Domenico, sacerdote della Chiesa di Santo Stefano, con alle spalle un'opera che ha trascorso un soggiorno forzato fuori da queste meravigliose mura. Don Domenico, quest'opera è ritornata a casa, adesso però, come è anche visibile, ha bisogno di un po' di ristrutturazioni. Quali sono le iniziative che ci sono in corso? C'è stata un'iniziativa che è avvenuta il 25 marzo scorso, in cui abbiamo voluto invitare tutta la cittadinanza perché potesse rivedere, quasi riprendere possesso materiale di quest'opera, che è veramente una meravigliosa opera d'arte, che è un patrimonio di questa città di Sala Consilina e di tutta l'umanità, perché le opere d'arte sono un patrimonio di tutti. Nessuno se ne può appropriare in maniera particolare, ma appunto solo se vengono intese a beneficio di tutti, allora poi tutti sono chiamati anche in causa, in questo senso, perché nessuno può dire non mi interessa, non mi riguarda, è un bene che non è mio. No, le opere d'arte sono veramente di tutti, perché appunto mettono in evidenza beni, aspetti della vita che possono e interessa la vita di tutti. Quindi già in quell'occasione, già il 25 marzo scorso, ho fatto presente alle persone che avevano partecipato a quell'iniziativa del bisogno che è tangibile e visibile di poter rimettere a posto, perché noi ci teniamo a poter rimettere a posto la pala nella Cappella del Rosario, dove è stata trafugata nel 1982. Però ovviamente in queste condizioni non la possiamo rimettere, perché ha bisogno comunque di un'opera di restauro. Quindi in quella sede ho fatto presente, era presente anche il restauratore che ha fatto il preventivo per provvedere a questo necessario restauro, ho invitato la cittadinanza tutto, almeno chi era presente, c'erano privati, ma c'erano anche rappresentanti di associazioni, quindi a me ha fatto piacere questo in quell'occasione. Qualcuno, devo dire, privatamente si è fatto sentire, cioè è venuto e si è reso partecipe della necessità di contribuire. Aspetto però chiaramente anche che gli aiuti possano essere anche un po' più sostanziosi, perché altrimenti non possiamo iniziare l'opera di restauro. Ecco, diciamo che per una comunità come quella di Sala Consilina non è una cifra particolarmente importante, quindi si è parlato di circa 5.000 euro, quindi diciamo l'invito è quello a partecipare, perché se tutti i salesi donassero un euro avremmo più del doppio di quanto necessario per ristrutturare l'opera. Sì, assolutamente, voglio dire, l'importo non è così eccessivo e può rientrare nelle disponibilità di ciascuno. Un caffè, come dicevi anche tu, un euro, non è questa somma così eccessiva da poter destinare. Poi non dimentichiamo che veramente questa è una delle prime opere d'arte che sono state commissionate da quando l'immagine della Madonna del Rosario ha avuto la possibilità di essere raffigurata, cioè dopo la famosa battaglia di Lepanto nel 1570. Questa pala è una delle prime immagini che sono state raffigurate dopo il 1570, quindi forse voglio dire sul territorio salese è una delle opere, per non dire l'opera più antica. Quindi voglio dire, se ognuno di noi, qui ripeto, si impegna a portare alla sua autenticità questo bene, è un po' come se la nostra autenticità risulta più bella, la nostra umanità risulta veramente anche più orgogliosa quando ci impegniamo a servizio del bene e del bello, come in questo caso. Ecco, allora dobbiamo solo spiegare come fare, chi volesse contribuire, che cosa può fare, Don Domini? Chi desidera intanto può contattare me, voglio dire, io sono raggiungibile e ci mancherebbe altro. Voglio dire, chiunque può farlo, su sala, ripeto, mi conoscono, insomma, sanno che sono il sacerdote di riferimento della comunità di Santo Stefano e di San Pietro Apostolo, ma anche le altre comunità mi conoscono, quindi non c'è nessuna difficoltà. Chi vuole può contattarmi e così, ecco, prima riusciamo a raggiungere anche un importo, anche se non è, voglio dire, se non è quella cifra, però almeno ci permette di poter partire e poi, ecco, anche in corso d'opera continuare la raccolta. Però almeno raggiungiamo una somma, almeno la metà, diciamo, di quell'importo, se riuscissimo a raggiungerlo prima di poter iniziare quest'opera di restauro, così almeno, voglio dire, siamo sicuri che tendenzialmente quell'importo possiamo raggiungerlo e quindi il restauro si può fare. Grazie